Noi lavoriamo, io lavoro con l'Aism da tanti anni, facciamo dal 2013, facciamo ogni anno e mezzo uno spettacolo teatrale che è frutto di un laboratorio, quindi ragazze, ragazzi, uomini, donne, persone che fanno parte dell'Aism e anche amici simpatizzanti, volontari, frequentano un laboratorio teatrale con me, lavoriamo su vari aspetti dell'attività teatrale e alla fine produciamo, costruiamo, mettiamo in scena uno spettacolo. Quest'anno il tema è stato La tempesta di Shakespeare, quindi ci siamo appoggiati a un testo, come facciamo spesso, un testo solido, che è l'ultima opera di Shakespeare, anche delle sue più belle probabilmente, e attraverso questa storia della tempesta abbiamo ripreso la storia di diversi degli attori che hanno partecipato al laboratorio, quindi partiamo, ci sono dei testi, dei monologhi scritti dalle persone che hanno partecipato, dagli allievi, c'è tutta una parte che riguarda, presa proprio da Shakespeare, e poi altre ibridazioni, altre connessioni che noi facciamo con la realtà, con la contemporaneità, con altri racconti che vengono da altre parti e che vengono fuori durante l'improvvisazione di laboratorio. Quindi è un progetto, diciamo, collettivo, che è guidato da me, insomma, che faccio questo tipo di lavoro in tante situazioni diverse, ma con l'Aism, come dico sempre, la profondità e l'impatto che si raggiunge è incredibile. Questo prendo più io, mi viene sempre da dire, da questo lavoro per me, che è quello che do alle persone che partecipano. Lo consiglio anche appunto per gli spettatori, venire a vedere uno spettacolo del genere è un'esperienza molto forte e molto bella. Continua l'impegno per il sociale della Regione Abruzzo e del mio assessorato, tante le misure messe in campo con il nuovo piano sociale, che è una dote finanziaria rilevante, che abbiamo illustrato più di una volta. Oggi abbiamo voluto illustrare questo progetto a favore dell'Aism, a favore di tutte quelle persone che soffrono di sclerosi multipla, che vogliamo integrare e dargli una dignità di vita. Lo facciamo in questo caso tramite un laboratorio teatrale, sono molto contento di questo progetto, che è anche innovativo, è un progetto pilota che vogliamo, qualora avesse un grosso successo, ma non ho dubbi, prospettare anche per il futuro. Quindi tante iniziative stiamo mettendo in campo, voglio ricordare il car giver, la vita indipendente, il rimborso delle spese emologiche, il dopo di noi, ma anche tanti progetti speciali che ci stanno permettendo di andare incontro alle esigenze delle persone più fragili. Perché l'obiettivo è quello di rimuovere non solo ogni ostacolo architettonico, ogni barriera architettonica, ma anche ogni barriera psicologica e morale. E ritengo che stiamo facendo molto, è stato fatto tanto, ma dobbiamo continuare su questa strada, aumentando ulteriormente la dote finanziaria, perché nelle sociali soldi non bastano mai.